Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di tre nuovi manga, infatti oggi vi parlerò del numero uno di Given, The Promised Neverland e Bungo Straight Dogs. Direi di iniziare con The Promised Neverland perché mi avete chiesto in tantissimo un'opinione al riguardo e l'ho terminato proprio due giorni fa, quindi sono fresca fresca di lettura. Questo manga è di Kaiushira Ieposuka Demisu, edito dalla J-Pop al prezzo di 5,90€ a volume. Attualmente sono usciti due, la storia parla di bambini, ragazzi, ragazze, di un orfanotrofio in cui la vita sembra scorrere in maniera più che perfetta. Infatti questi bambini sono ben voluti dalla direttrice dell'orfanotrofio che loro chiamano amorevolmente madre, mangiano a non finire, giocano tantissimo, svolgono dei testi, insomma tutto procede molto tranquillamente. fino a un giorno in particolare in cui due ragazzi non scoprono la realtà che si cela dietro questo orfanotrofio, il vero motivo per cui vengono cresciuti in questo istituto. Devo dire che non me l'aspettavo, ero riuscita a tenermi libera da spoiler fino alla lettura di questo volume, quindi sono rimasta molto scioccata da questa rivelazione che sconvolgerà totalmente le vite di questi ragazzi. Oltre comunque alla mia sorpresa iniziale, devo dire che la storia non mi è dispiaciuta affatto. Un po' per questo lato sorprendente che ti lascia veramente senza parole, un po' perché ho trovato questo mondo diciamo distopico molto interessante. In questo primo volume ci vengono accennate soltanto alcune cose abbastanza cupe e tetre che riguardano dei ragazzi, dei bambini alla fine. In questo orfanotrofio ci sono bambini da un anno fino a 11-12, quindi sono veramente giovanissimi e dovranno far fronte a delle problematiche invece molto serie e adulte. Inoltre la loro realtà è molto candida, innocente, sono tutti molto felici di stare in questo orfanotrofio, si considerano tutti fratelli anche se provengono ovviamente da famiglie diverse. Sono vestiti tutti rigorosamente di bianco, hanno un numero identificativo sul collo e non immaginano nemmeno quello che realmente accade insomma ed è abbastanza sconcertante. Ci sono dei momenti nel manga in cui tutto scorre molto felice, i personaggi hanno dei volti molto rilassati, super sorridenti, quasi proprio a deformare i lineamenti del viso e dei momenti in cui cambia tutto completamente. La drammaticità viene espressa molto bene nei volti dei personaggi, una cosa che mi ha colpito tanto perché sembra quasi di vedere due personaggi diversi quando qualcuno è felice e poi invece teso per la situazione che si viene a presentare. Mi è piaciuto questo tratto abbastanza distintivo dei disegni, anche se devo dire che non mi fanno totalmente impazzire perché li vedo un po' come schiacciati, però si tratta di un mio gusto personale insomma. Vi faccio vedere qualche tavola per darvi giusto un'idea del tratto di questo shonen, devo dire che non leggo tantissimi shonen perché non sempre sono molto nelle mie corde. Questo mi intriga tantissimo, come vi dicevo la storia viene appena accennata, in questo primo volume vengono poste le basi per qualcosa che si prospetta veramente fuori di testa, quindi io non vedo l'ora di recuperare il secondo volume, anzi la J-pop è stata così gentile da inviarmi già il numero 2, quindi penso che è terminato questo video e mi fionderò a leggerlo. Il secondo manga di cui voglio parlare oggi è Bungo Stray Dogs, questo manga è di Kafka Asagiri e Sango Arukawa, edito dalla Planet Manga al prezzo di 4,50€. Non è nuovissimo questo manga, è uscito già da qualche mese, io l'avevo recuperato all'epoca ma poi è rimasto lì a prendere polvere in libreria, però è una storia che mi incuriosiva tantissimo perché si tratta di un crime, sapete che io ho il pallino per le storie di crimine investigative e i protagonisti di questa storia sono dei detective ispirati a personaggi letterari, principalmente giapponesi. La storia si apre con questo ragazzo che viene cacciato da un orfanotrofio e sta praticamente morendo di fame, si decide a rapinare il primo passante, solo che questo si getta nel fiume perché cerca di suicidarsi e viene fuori che fa parte di una società di detective con poteri particolari. Ho trovato le premesse di questo manga molto interessanti perché si mescolano elementi reali a elementi fantasiosi, infatti i personaggi fanno parte di una società più o meno moderna, si ispirano a personaggi realmente esistiti non soltanto per il nome della loro tecnica, del loro potere principale, ma alcuni riprendono anche delle caratteristiche dei personaggi realmente vissuti e poi come dicevo c'è questo lato più paranormale dei poteri magici. Anche i personaggi che ci vengono introdotti in questo primo volume li ho trovati molto interessanti. Innanzitutto il protagonista perché è nuovo a questa società investigativa, non conosciamo tantissimo le sue origini, viene da un orfanotrofio da cui è stato cacciato. Diciamo che potrebbe avere una storia abbastanza complicata, in questo primo volume non si entra nel profondo, non viene approfondito tantissimo il suo personaggio, però quello che ci viene raccontato mi ha intrigato veramente tanto e poi da Zai, ovvero l'investigatore in cui si imbatte quello che c'ha il pallino per il suicidio, l'ho trovato veramente esilarante, è un personaggio ironico ma allo stesso tempo molto intelligente. Anche in questo caso ci viene giusto presentato, non si entra molto nel profondo dei personaggi, però penso che verranno sviluppati meglio con i successivi volumi. Per quanto riguarda il lato crime che mi ha spinto ad acquistare questo manga, sono rimasta un tantino delusa. Ovviamente si tratta di un primo volume, quindi non si poteva entrare proprio nel vivo dell'azione già da adesso, lo capisco, però mi aspettavo un lato un po' più serio per quanto riguarda l'investigazione, invece ho trovato tutto molto più leggero e superficiale. Il tratto non mi è dispiaciuto affatto, mi piacciono molto i disegni come vengono rappresentati i personaggi, mi piacciono un po' meno le scene d'azione perché le trovo un po' più complicate da seguire. Però nel complesso devo dire che è un manga che ha stuzzicato molto il mio interesse. Sono decisa a continuare questa serie perché come vi dicevo le premesse mi sono piaciute, sicuramente andando avanti ci saranno maggiori sviluppi, si entrerà nel profondo per quanto riguarda i personaggi, ma anche dal lato più misteri, che era quello che mi ha spinto inizialmente ad avvicinarmi a questa storia, però al momento non rientra fra le mie priorità. Diciamo che ci sono fumetti che mi incuriosiscono di più, che mi hanno catturata fin dall'inizio e che preferisco recuperare prima di proseguire con questo manga. Ho scoperto tra l'altro che esiste un anime tratto da questa storia, quindi probabilmente mi affaccerò all'anime per vedere se effettivamente la storia andando avanti sarà più intricata, un po' più investigativa come sto cercando io. Infine l'ultimo manga di cui voglio parlare oggi è Given, di Natsuki Kizu edito dalla Flashbook a prezzo di 6,90€. Questo è il primo volume, attualmente ne sono usciti tre. La serie è ancora in corso anche in Giappone, quindi non so quando proseguirà questa serie, però al momento sono rimasta molto soddisfatta da questo primo volume. Ve ne avevo già parlato un po' di tempo fa perché non è una mia lettura recente, però ci tenevo a parlarvene anche qua in video perché è un manga che mi ha sorpresa. Dalle premesse, non si presentava come un manga che potesse piacermi perché parla tanto di musica e io faccio un po' fatica a ingranare con i manga che parlano di sport o ad esempio di musica. Uno dei protagonisti, infatti Mafuyu, cerca l'aiuto di un altro compagno di scuola perché vuole aggiustare la sua chitarra e imparare a suonarla. Il ragazzo a cui si rivolge, Ueno Yama, è un ragazzo abbastanza annoiato dalla sua vita di tutti i giorni, stanco del basket e stanco della musica, ma conoscendo Mafuyu qualcosa si metterà in moto, inizierà a conoscere pian piano questo ragazzo, interessarsi sempre di più a lui e rimane molto colpito dalla sua voce quando lo sente cantare. All'inizio mi sembrava una storia abbastanza normale, una come tanti in cui due ragazzi si incontrano, hanno una passione in comune, iniziano a conoscersi, inizia magari un'amicizia o forse qualcosa di più, insomma una storia di vita quotidiana scolastica abbastanza nella norma. Però invece andando avanti la storia prende dei risvolti un po' più drammatici e sono rimasta molto sorpresa da questo. Ed è questo sostanzialmente il motivo che mi ha spinto a continuare il fumetto. Ancora non ho letto i seguiti, però ho recuperato il 2 e il 3, perché dalla metà in poi la storia si fa veramente molto più intensa e diciamo, tra virgolette, seria. Soprattutto per quanto riguarda il personaggio di Mafuyu, che rimane molto misterioso, ha una sorta di maschera all'inizio, che pian piano secondo me si sgretola all'interno di questa storia e sono molto curiosa di andare avanti e di scoprire qualcosa di più di questo personaggio perché a livello psicologico secondo me è molto interessante. A di là quindi della musica, che è un tema diciamo abbastanza centrale all'interno di questo manga perché è la passione che accomuna i due protagonisti e che li unisce in questa storia, c'è molto altro all'interno di questo fumetto. Quindi sono molto curiosa non soltanto di proseguire per vedere come evolveranno le questioni fra i due protagonisti, ma anche per indagare un po' il dramma che vede il protagonista in particolare Mafuyu, che a livello diciamo emotivo mi ha colpito particolarmente. Il tratto di questa autrice mi è piaciuto fin da subito, mi piace molto la pulizia e la raffinatezza che mette nei suoi personaggi e secondo me Wenoyama in particolare ha uno spettro di espressività molto variegato e mi è piaciuto tanto. Ci sono molti momenti in cui è serio, cupo, tenebroso, ma altri in cui è veramente buffo e fa ridere. E mi è piaciuta quindi questa diversità di espressione. Poi ci sono tavole così che veramente sono quasi poetiche, veramente mi sono piaciuti tanti i disegni di questo manga e sono curiosissima di proseguire la storia. Si tratta di un fumetto che parla sì di vita quotidiana, di una grande passione per la musica, ma affronta anche tematiche LGBT. Queste erano quindi le mie prime impressioni su questi tre manga. Fatemi sapere ovviamente qua sotto nei commenti se li avete letti anche voi, se avete già proseguito la lettura di questi volumi, che cosa ne pensate, quali sono le vostre impressioni a caldo su queste storie. Vi ricordo inoltre che potete seguirmi anche sul canale Telegram che trovate linkato qua sotto in descrizione per poter essere sempre aggiornati sugli ultimi video usciti, gli ultimi articoli. Ogni tanto vi mando anche dei retroscene, delle anticipazioni, quindi se siete curiosi trovate le maggiori informazioni in descrizione. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci diamo alla prossima. Ciao!